Buonasera Federica, siamo qui sulle alture di Santolcese dove per l'ultima volta è stato avvistato Alfonso Cioce. Alfonso Cioce, come sei riuscito a sviluppare la sceneggiatura? Il lavoro sulla sceneggiatura è durato circa un anno e l'ho diviso in due fasi. La prima è stata quella di lavorare sul soggetto per creare poi una storia che fosse il più possibile credibile. Ovviamente parlando di graffiti ho dovuto incontrare alcuni di questi ragazzi, conoscerli, passare molto tempo con loro, uscire anche con loro durante la realizzazione di alcuni pezzi. Questo si traduce poi all'interno del film con scene che sono molto credibili, molto vere. Un graffitaro si riconosce veramente in quelle scene perché sono vere. Allora, d'ora in po' chiunque ci può vedere, quindi stiamo bassi, andate veloci e nascondetevi di a tavagoni e poi dritti fino al deposito. Va bene, dai. Pronti? Vai. Dai, 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 dai. Ora siamo arrivati a un livello tale di disumanizzazione della società che uno fa una cosa normale, è super straordinaria. Io non ho mai sentito parlare di straordinarietà come in questi tempi. Uno fa una cosa normale che dovrebbe... Ha fatto una carezza al figlio, il padre è straordinario. Ma come... Cioè, quello ha detto, ha fatto questa scena, è un attore, è un attore straordinario. Cioè, ritorniamo alla normalità invece di ormai di essere spacciati per folli solo perché facciamo le cose normali, le cose oneste poi non vi dico addirittura sono quasi scandaloso, uno la fa che viene visto quasi da santificare. Tiziana, mi senti? Mi sentite? Gli amici, quelli sono gli amici del cinema? No, 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 il cinema è l'Albatross. Sì, 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 sì. Ok, ci sono due spettacoli, una del 6 e mezzo e una del 21. Bene, perfetto. Ancora una cosa, salutate. Ciao. Ciao. D'Alfonso Croce, d'Alfonso Croce, scusa, scusa, scusa. E solo per te oggi, girati, facciamo conoscere uno degli attori protagonisti. Che bello. Vieni. Ciao. Monica, Monica. Vi lascio una cartolina, dove c'è scritto tutto del nostro film, c'è giovedì prossimo l'Albatross, sai dove è? Ah, sì, 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 so dove è. Ok, se vuoi venire, se vuoi sapere qualcosa in più su di noi, ci c'è anche su Facebook la pagina Bright, la storia di una crew e io ho anche la pagina fan che è al mondo di Sato. Ok, va bene. Ciao.